Dalla TG regionale per assordi, la polizia indaga sulla tragedia del piccolo Jacopo Baci, sott'anni figlio dell'ex calciatore Viola Michele, precipitato dal terzo piano della sua abitazione ad Arezzo. È stato individuato il videogioco con cui probabilmente si stava cimentando quando sabato sera è caduto ed è morto. Si tratterebbe di un gioco che simula come dopo una catastrofe la terra rischi di essere invasa dagli alieni e dunque stimola i videogiocatori al combattimento per difenderla. Intanto il PM Roberto Rossi ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati per chiarire la dinamica e accertare l'ipotesi del gioco come probabile attività che il bambino stava appunto svolgendo prima di cadere. Gli accertamenti della polizia riguardano anche l'eventuale pericolosità dello stesso videogioco. Il tablet era stato consegnato dalla famiglia alla polizia proprio per fare gli accertamenti. Ieri nella cattedrale c'è stato l'ultimo saluto a Jacopo con funerali privati. Avrebbe pubblicato una decina di foto intime della ex fidanzatina nei 17 anni su alcuni siti di escort di prostitute insieme al numero di cellulare di lei però per vendicarsi della fine della loro relazione. Per questo un 21enne incensurato è stato arrestato dalla polizia postale in esecuzione di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal GIP di Firenze. Le accuse a carico del giovane originario del Marocco sono stalking, revenge porn, sostituzione di persona e diffamazione. È sceso dalla sua vecchia bici e si è allontanato su una nuova del valore di 2.000 euro che il proprietario aveva appoggiato a una ringhiera per recarsi in una vicina pasticceria in via Aretina a Firenze. Per questo un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine ieri è stato denunciato dai carabinieri per furto. I militari hanno identificato l'uomo grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza cittadine. Nella vertenza sindacale della Casa di Moda Roberto Cavalli è arrivata dalla dirigenza ai sindacati la lettera che ufficializza la procedura di trasferimento a Milano a partire da settembre. Per i 170 addetti della sede di Sesto Fiorentino che l'azienda vuole chiudere. Venerdì 22 maggio alle 14.30 si svolgerà in merito proprio un incontro tra sindacati e azienda a Firenze nella sede di Confindustria. Un percorso è stato allestito all'ospedale San Jacopo di Pistoia per seguire i pazienti guariti dal Covid-19 ma ancora bisognosi di essere curati. L'accesso al day service potrà riguardare per il momento 242 pazienti su 337 ricoverati totali a partire dal 24 febbraio, giorno del primo ricovero per Covid. Il 10% dei pazienti sono stati dimessi con ossigenoterapia domiciliare. Il controllo avviene a distanza di almeno 4 settimane dalla dimissione. Dall'inizio dell'attività post-Covid sono stati controllati oltre 30 pazienti. Questa mattina chiude l'ultimo dei tre reparti aperti all'ospedale di Empoli che erano stati allestiti per l'emergenza coronavirus. Lo comunica il sindaco Brenda Barnini su Facebook scrivendo che questo risultato è merito di un grande lavoro di squadra che ha visto in prima linea per due mesi tutto il personale sanitario ospedaliero e territoriale. Tutti i sindaci dei 15 comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno e soprattutto tutti i cittadini che hanno usato il massimo senso di responsabilità. Salvato dai vigili del fuoco un gattino che era rimasto incastrato in una tubatura interrata utilizzata per la fibra. È accaduto questa mattina nel giardino del Dipartimento Universitario di Scienze Fisiologiche di Firenze in Viale Morgagni. Il piccolo animale è stato individuato grazie a una sonda dotata di telecamera e poi liberato. Sta bene, è stato consegnato al responsabile della colonia felina che si trova nella struttura. È stato individuato e denunciato l'uomo che la sera del 16 aprile scorso appiccò un incendio a una palazzina presso l'ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta di un 38enne tossicodipendente con numerosi precedenti per droga attualmente in carcere per pene pregresse. La polizia di Stato è arrivata fino a lui grazie all'esame delle telecamere. L'incendio provocò ingenti danni alla struttura. Sorpreso dai carabinieri, mentre stava scaricando dal suo auto articolato gli pneumatici che avrebbe dovuto consegnare a una ditta un 44enne di origine romena è stato denunciato per appropriazione indebita dai carabinieri. È accaduto la notte scorsa a San Casciano, Val di Pesa, provincia di Firenze. Stessa accusa per due suoi connazionali di 46 e 48 anni, bloccati mentre lo aiutavano a scaricare le gomme dal tir e a caricarli su un furgone. Il 44enne è dipendente di un'azienda di Campi Bisenzio alle porte di Firenze specializzata nella commercializzazione di pneumatici. Oltre 3,8 milioni di visualizzazioni è quanto hanno registrato le 21 mostre virtuali proposte dalla Galleria degli Uffizi di Firenze dopo la chiusura dei musei l'8 marzo per l'emergenza coronavirus. In particolare il tour virtuale a 360 gradi delle nuove sale veneziane del Museo Fiorentino è stato visto da oltre 110 mila spettatori, più di 4 mila al giorno. Le due clip in cinese realizzate in occasione della giornata internazionale dei musei il 18 maggio hanno ottenuto rispettivamente 724 mila e 676 mila visualizzazioni in un giorno per un totale di 1,4 milioni. Il museo annuncia poi il lancio sul sito degli Uffizi di una sezione che raccoglie tutti i video pubblicati in vari luoghi. E ora uno sguardo alle previsioni del tempo per domani in Toscana, sereno o poco nuvoloso. Venti deboli o moderati, i mari sono poco mossi e per quanto riguarda le temperature, minime in lieve calo, massime in aumento intorno ai 25-26 gradi in pianura. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.